Ciao a tutti, oggi prepareremo il pudino al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti più 6 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono zucchero, latte, amido di mais, caffè espresso amaro e caffè solubile. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e il caffè solubile e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'amido di mais, il caffè espresso ed il latte ed azionare il bimbi per 9 minuti 90 gradi velocità a 4 trasferire i stampi in silicone e riporre in frigo per almeno 6 ore. Budino al caffè. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!